Alcuni mesi fa abbiamo scoperto che l'hotel Rigopiano, che si trovava a Farintola, non aveva pagato acqua all'ACA per un importo di 480 mila euro. Ci sembrava una cosa veramente strana, abbiamo chiesto informazioni ai vertici dell'azienda dell'ACA e in effetti la cosa era reale, infatti abbiamo tutti i documenti comprovanti questo. Naturalmente abbiamo chiesto subito la sospensione del servizio per morosità, questo non è stato fatto, in questo momento questo hotel ha regolarmente la fornitura di acqua, non ha pagato questi 480 mila euro di acqua a fronte di tutti quei poveri cittadini che per non aver pagato una bolletta di 100, 200, 300 euro si vedono appunto disattivare il contatore dell'acqua e noi ogni giorno ne vediamo molti che si rivolgono ai nostri sportelli per chiedere la riattivazione dell'acqua. Naturalmente abbiamo subito diffidato i vertici dell'ACA ad interrompere il servizio e attuare tutte le procedure legali per il recupero della morosità, questo non è stato fatto e quindi oggi noi stiamo presentando un esposto penale alla procura della Repubblica di Pescara e ancora più dettagliato un esposto alla procura regionale della Corte dei Condi per chiedere la responsabilità irariare personale in capo ai vertici dell'ACA che dovrebbero a nostro avviso rimborsare, rimettere nelle casse dell'azienda questi 480 mila euro non recuperati dall'azienda. E poi disattivare e cessare l'attivazione dell'acqua per morosità.